Andrea Pensiero, uno dei soci di Franklin & Marshall, ancora una volta insieme all'Ellas Verona. L'anno scorso il battesimo, quest'anno vi siete trovati così bene che avete perfino rinnovato per due anni la collaborazione col Verona. Sì, e soprattutto volevamo iniziare la stagione dall'inizio, cosa che l'anno scorso invece non abbiamo potuto fare. Comunque era una cosa che volevamo sia noi che il Verona e quindi alla fine ci siamo accordati tranquillamente, senza problemi. Da uomo di moda qual è? Le piacciono le nuove maglie? Abbiamo la prima maglia qui alle nostre spalle, la seconda bianca, la terza è nera. Insomma, il suo gusto da stilista qual è? No, io posso dire che da tifoso le maglie mi piacciono tantissimo, anche da professionista del settore le trovo molto molto belle, quella bianca in particolare. È un Napolo che poi a vero non si è mai vista, una maglia della gara così? Però vedo che è un po' la tendenza in giro anche alle altre squadre, so che anche la Roma ha la maglia fatta a polo, comunque è una cosa che riprende un po' le maglie del passato, degli anni, penso anni 50, anni 60 di questo periodo. Come sempre i tifosi giallo-blu hanno risposto presente, rinnovato oltre 12.000 persone, campagna volamenti che sta andando veramente molto bene nonostante l'aumento di prezzo. Le chiedo, lei come Franklin e Marsha, Andrea Pensiero, cosa si aspetta dalla prossima stagione dopo un campionato strepitoso come quello dell'anno scorso? Ma adesso vediamo cosa succede, se la vendita di Turbe porta un po' di ossigeno penso che si possano comparare dei giovani, dei giocatori che ci possano far fare un campionato tranquillo. Poi tutto quello che viene è in più.